Perchè non ce lo vediamo insieme? Ci sei tu da picco, c'è la nostra arena, la tua arena. Incidenti, un bravo evidente è passato. Non ci siamo neanche abbracciati. Volevo dirti che io ti tengo da morire a questo posto e anche a tua madre. Ti ricordi che vent'anni fa al posto di questo buvetto c'era la cassa del nostro cinema? Allora il cinema funzionava, riuscivamo ad avere di che vivere tutti quanti. Ti ricordi quando mai hai salvato la vita? Eh sì, certo che mi ricordo. Si era arrampicato qui sul tetto della Canonica. Questo è l'archivio di Arabella, lo stiamo riversando, c'è anche roba mia. E che rifiuta la propria infanzia non può ricordare niente. Come posso non ricordare? È tutto documentato. Questa sera l'arena riapre e il Cine Club riprende la programmazione con una rassegna tutta dedicata a Bu Nuel. Stasera ci saranno le stelle. Abbiamo scelto una notte senza luna per l'Ajdor. Devo ammettere che siete tutti molti diversi da me. La generazione non conta. Tutti con questa mania per la verità. E tu? A te non piace la verità? Come sto? A te non piace la verità. A te non c'è più zaga.